Ogni anno la Direzione Nazionale delle Pontifice e Opere Missionarie, rappresentata dalla Fondazione Missio, propone un tema per la giornata missionaria che diventa un motivo di approfondimento e di formazione missionaria per tutta la durata dell'anno pastorale. Il tema di quest'anno viene a completare un percorso triennale voluto da Papa Francesco che sottolinea come la vocazione missionaria sia di tutti e che tutti i cristiani debbano essere tessitore di fraternità, come i missionari che vanno nei paesi più lontani, incontrano e si mettono al servizio di popolazioni di culture diverse con spirito fraterno. Quest'anno il tema ha come titolo Testimoni e profeti di un mondo nuovo. Il messaggio di Papa Francesco esorta ad essere testimoni e profeti con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che davanti ai capi del popolo e agli anziani non hanno avuto paura di dire non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E a questo proposito c'è da sottolineare il richiamo con cui oggi il Pontifice si è rivolto ai credenti parlando delle sventure dei migranti e sottolineando la sorta di sperata a cui è soggetto in Libia chi si avventura nei viaggi della speranza. Alla denuncia di Francesco delle condizioni disumane in cui versano migliaia di rifugiati richiedenti asilo nel paese nordafricano si è aggiunto l'appello alla comunità internazionale a dare priorità al soccorso di vita in mare e a garantire percorsi regolari di migrazione e accesso alle procedure di asilo. Non vi dimentico mai, sento le vostre gride e prego per voi. Tanti di questi uomini e donne e bambini sono sottoposti a una violenza disumana ha detto Papa Francesco. Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete e duerevoli per la gestione di flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo. E quanto soffrono coloro che sono rimandati là? Ci sono dei veri lager, occorre porre fine al ritorno dei migranti in paesi non sicuri e dare priorità al soccorso di vita umana in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibili, garantire loro condizioni di vita degne, alternative alla detenzione, percorsi regolari di immigrazione e accesso alle procedure di asilo. Sentiamoci tutti responsabili di questi fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione e preghiamo per loro.